Salve, sono Urbano della Sani Moreno, uno svagheau di Fucicchio. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa bella Lancia Y ed è 1.2 benzina dell'anno 2014 precisamente nel mese di febbraio. È una vettura adatta ai ragazzi e ragazze neopatentate, quindi molto bella e giovanile per incominciare a guidare. Un'altra cosa molto importante da notare in questa macchina. E già è 1.6 quindi rispecchia già gli ultimi dati in fase di antinquinamento. Intanto da queste immagini notiamo come la carrozzeria di questo bel colore nero metallizzato si presenti in un modo veramente eccellente. Non ci sono graffi, non ci sono ammaccature, bella e brillante. Andiamo ora a vedere le specifiche di questa apertura e partiamo dal vado bagagliaio. Abbiamo i suoi sedili sdoppiati, bauliera bella e pulita, ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Molto importante anche questo per un fattore di sicurezza. Andiamo a vedere anche gli interni, le specifiche degli interni. Il suo pannello con gli interruttori dei vetri elettrici e l'interruttore per la regolazione degli specchietti esterni. Una panoramica intanto sul cruscotto poi vedremo le specifiche. Diamo anche uno sguardo alla tappezzeria che come nostro solito è stata lavata, igienizzata a vapore con questa lavorazione. Il risultato di questa lavorazione è di avere una tappezzeria ripeto bella pulita, igienizzata e profumata. Diamo ora uno sguardo a quello che è la nostra plancia. Partiamo dal chilometraggio. 83.750 chilometri. Naturalmente tagliandati tutti dal precedente proprietario e in questa vettura specifica abbiamo già fatto il tagliando proprio ora, prima della consegna della macchina. abbiamo il suo autoradio con il cd, il climatizzatore manuale, gli interruttori sopra per la regolazione del computerino di bordo, frecce d'emergenza, interruttore per escludere lo start stop, naturalmente essendo come vi ho detto prima un euro 6, ha anche il sistema start stop di serie. Interruttore per il servo sterzo in versione siti, quindi più morbido per quanto riguarda quando andiamo a fare i parcheggi. Tutti i comandi al loro posto. Molto bella anche nel vedere. Altre immagini dell'esterno della vettura e andiamo a vedere anche il nostro anulone. Anche questo tutto controllato, naturalmente come vi ho già detto è stato fatto il tagliando. Tutto controllato significa che tutte le nostre vetture vengano messe presso il nostro service Volkswagen e vengono controllate con una checklist specifica dove sono dettagliati 110 punti per far sì che la vettura venga controllata in ogni particolare per renderla quanto più affidabile possibile. Ci verrà poi abbinata una garanzia di legge di 12 mesi con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità di pagamenti laterali a tassi agevolati con più di una soluzione che vi saranno spiegate naturalmente in sede. Dopo questa presentazione passiamo a fare un giro di prova su strada e adesso salite insieme a me a fare il giro di prova. E partiamo. La prima cosa che viene a farsi notare nel salire sulla vettura come vi ho anticipato prima è la bellezza e la pulizia della vettura quindi l'accoglienza veramente spettacolare. A cosa serve il giro di prova? Serve a capire il buon funzionamento della vettura dal cambio alla frizione scatola di sterzo sospensioni che non ci siano rumori anomali. Allora io da questi primi metri mi viene proprio da notare che cambio e frizione hanno un ottimo funzionamento. Il cambio le marci sono veramente precise frizione bella morbida la vettura va veramente dritta su strada. Nell'entrare nei nostri incroci la scatola di guida nel girarla parecchio la sento morbida e precisa senza giochi di conseguenza una sicurezza nella guida. Passiamo alle sospensioni nella classica strada dove ci sono le buche. Non ci sono rumori anomali sentiamo solo il lavoro delle sospensioni quindi una vettura ancora molto solida e tutta da sfruttare quindi ragazzi e ragazze neopatentati affrettatevi perché è veramente un'ottima vettura. Se siete poi se abitate lontano dal nostro punto vendita possiamo prendere anche un appuntamento telefonico e in diretta farvi una videochiamata tramite whatsapp per presentarvi ancora più specificatamente la vettura. Quindi trasparenza nel presentare la macchina con pregi ed eventuali difetti perché le macchine non possono avere la perfezione quindi presentazione molto trasparente e poi farvi anche una prova specifica per voi. Dopodiché se deciderete di venire a vederla di persona almeno non trovate nessun tipo di cose che non sapete dopo aver constatato quindi la bontà della vettura il buon funzionamento torniamo al nostro punto di partenza. Dopo il nostro giro di prova vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete la scheda specifica della nostra vettura e troverete naturalmente anche il prezzo cosa che non diciamo nel video perché non ci sembra giusto. Vi invitiamo anche a seguirci sui social instagram facebook al nostro indirizzo sanimoreno srl dove troverete tutte le nostre iniziative tutti i nostri prodotti che presentiamo. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione vi invitiamo presso il nostro punto vendita di l'ucecchio naturalmente in tutta sicurezza e come diciamo sempre alla prossima vettura